caffettino 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 devo stare attenta perché questa tazzina mi si è crepata però per fortuna dove appoggio la bocca no aveva già una scheggettina piccina però mi piace tanto ai convolvoli le campanelle è deliziosa allora avevo registrato una chiacchiera molto lunga ma avrei litigato con mezzo web no mezzo no però un po sì e e allora via poi ve la rifaccio la lettura del mani di fata del mese è fresco fresco abbiamo concluso febbraio con il mani fata del mese scorso proprio a pelo a pelo è e poi ve lo risfoglio ma adesso vado via vado a fare una passeggiata con la minuccia il sole il vento pare essersi calmato questo è l'orario dove sotto si alza invece si è abbassato e noi ci vestiremo bene saremo belle coperte mi metterò anche i guanti oggi non mi frega invece abbiamo da andare alla hoppe che devo prendere delle cose che trovo alla hoppe e ci goderemo la passeggiata ho preparato l'impasto per le frittelle di riso bene le farò più tardi per merenda per merenda devo andare a prendere l'olio tra l'altro che io non lo uso quello lì per friggere la minu per cucinare la minu devo usare l'olio di semi di girasole io invece da girasole mais devo stare lontana e uso l'olio di riso o l'olio di semi di vinacciolo detto anche olio di uva olio di semi di uva che quando le sentite sotto i denti sono amarissimi ma fanno bene bisognerebbe masticarli insieme all'uva io mangio tutto non sputo niente allora questo qua è l'inserto del mani di fata di marzo è l'inserto è un allegato non inserto sarebbe un secondo numero dedicato al ricamo e poi a tutti quelli a quei kit che ma che canetta ecco è disposto a spedirvi a casa come gentile e lo trovo veramente carino io è da tantissimo che non ricamo più ho fatto qualcosa sulla maglia però quando le mie mani hanno iniziato a lucciar nel manico quindi a non funzionare più benissimo per i dolori e poi la mia vista io con gli occhiali mi trovo male avrei bisogno della lente e poi ci sono cose che anche che dico sì ci vedo quindi leggo però poi vado a vedere lì ci sono delle cose che con l'uncinetto non riesco a fare non capisco più dove devo passare e con l'ago sono un po un po un disastro però le mie mani funzionano molto meglio il ricamo mi rende felice il ricamo mi rende gioiosa mi piace la proposta tra l'altro appunto della biancheria devo dire che si è che migliorato tantissimo canetta delle sue proposte che lo trovavo sempre negli anni fino a un certo punto ho smesso di comprare mani di fatta perché era veramente troppo 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 vintage troppo e non mi piacevano più le proposte però ho sempre acquistato i suoi manuali anche con le loro imprecisioni perché ad esempio il manuale con i punti di maglia che sono due e c'è una differenza tra il primo e il secondo ci troviamo magari gli schemi ma non la leggenda a fianco che riguarda quello schemino di quel punto di quel motivo in uno dei due non mi ricordo se era il primo o il secondo vabbè comunque ci sono dei punti ho trovato qualche errore quindi delle omissioni vabbè succede anche nelle migliori famiglie però li trovo affidabili li trovo pratici sono tutte più anche insomma sono abbastanza anche robusti perché li ho sbatacchiati per tutti i versi si si consumano le copertine però non mi sono volati via i fogli invece un altro manuale che ho veramente massacrato perché tutti i fogli mi si sono staccati quasi tutti che era una una produzione di marie claire idee che è stata tradotta in italiano il manuale era comparso mi pare anche nelle librerie a formato libretto libro un formato come i quaderni quelli piccoli insomma mi ricordo come a qualcosa no ecco che l'ho trovato che ho trovato molto carino molto ben fatto me lo sono anche quello portato in giro per tutti i mondi perché si non è un tascabile però è maneggiabile non è ingombra non è pesante e purtroppo però si è sfracellato mezzo è proprio partito così tutto come schede però ce le ho spero di non aver perso troppo minu cosa fai la minu vuole uscire a ragione scusate che bevo un po di caffè quindi trovo abbastanza completi i manuali ho quello per tappeti di ricamo mi manca quello per l'uncinetto tunisino vorrei completare quelli dedicati ai punti di uncinetto sono una ghiotta di manuali come la maggior parte di voi con buona parte di voi non tutti sono appassionati alla manualità al manualesimo ecco e invece mi fa mi diverte quando vedo il bottino di luca sforza in invidia quando max va per mercatini e trova le sue cose io ci butto gli occhi ci buttavo perché e lasciamo perdere ma buona parte dei miei manuali che ne avevo di ganzi non me ne è rimasto nemmeno uno di tessitura costi traslocchi del piffero nemmeno uno io avevo tutti i manuali della marta gnagnognais che non ho mai capito come si pronuncia e li avevo tutti ne avevo uno in inglese fantastico un tomone di tessitura bellissimo spariti tutti tutto ma poi chissà quante altra roba che non mi viene in mente al momento tante riviste tante cose a tre un disastro un disastro veramente da quando sono partita da spezia non c'è stato un traslocco che non mi abbia procurato dolori per gli sforzi geloni per il freddo fatica vabbè quello lo sappiamo che se dobbiamo tirare un accidente guai augurare malattie non fatelo mai anche quando vi rubano qualcosa non dovete dire investirsi in medicina è una cosa brutta non lo facciamo mai però ti toccasse un trasloco o uno può fare un trasloco anche per andare a star meglio ma la fatica gli accidenti che ti capitano durante un trasloco guardate ecco è il peggio accidente che si può vi fanno proprio tanto male non dite le cose brutte veramente ma dite va bene ti toccasse un trasloco o trasloco uno magari compra casa eredita però anche quando vai a star meglio ti capita di tutto nel nostro ultimo trasloco no terzo ultimo quart'ultimo di tutto c'è successo dagli smottamenti di una collina su un capannone meraviglioso nuovo moderno ecco dentro c'era una meraviglia dove la mia amica teneva anche delle auto d'epoca ereditate dal compagno e ci aveva destinato a tutta una zona io ero un disastro così poveraccia ma poi non solo a lei perché era una zona molto carina anche discreta di questi capannoni incastrati l'uno all'altro ma di quelli belli non giganteschi ma belli quelli belli belli era una zona pratica da raggiungere tacci e quindi raduna cosa trasferisci di da un'altra parte dove una persona mi aveva dato la disponibilità poi all'improvviso la disponibilità non c'era più e io avevo un'altra opzione e no vieni da me perché poi dopo neanche 20 giorni eravamo ancora incasinate col trasloco in cose da fare cercare dove radunare le cose che non stavano nella casa insomma di tutto è successo dallo smottamento lì da un altro trasferimento da portarlo in una struttura e poi subire un incendio con allagamento perché per sedare le fiamme hanno allagato quindi mi è andata perduta tanta di quella roba di ricordi di immagini di manuali cose belle buone giuste quindi mannaggia mannaggia torniamo a parlare di cose belle di manuali va bene quindi mani di fatta per me canetta canetta è un riferimento per i manuali in italiano perché sono come tanti di voi io voglio l'italiano l'italiano così lo imparo meglio perché anche io tiro di quegli strafalcioli me ne accorgo a volte per stanchezza dopo perché sono anche un po' dislessica e non sto scherzando non se n'era mai accorto nessuno perché la dislessia qua è una roba che pare l'ultima scoperta del mondo e ci sono momenti dove o per a seconda di quello che mangiavo e ho scoperto che è vero ma anche per la stanchezza la stanchezza che lavoro da momenti di panico tipo non riuscire a scrivere dei numeri invertire le lettere ribaltare le le di tutto mi succedeva e poi quando ti dicevano dovrebbe perché è distratta e potresti fare di più potrei fare un accidente se non vi siete accorti che io sono dislessica e mica c'è da vergognarsi quando ho conosciuto il professor mascagna che persona splendida in viterbo che è un pittore scultore poeta ho ascoltato una sua opera ma veramente me la così gli è partita a memoria che meraviglia le serate io non le ho mai vissute in associazione l'associazione e poi ve lo dico come si chiama perché mi scappa il nome oltre che dislessica sono anche smemorina e ho partecipato ai giovedì perché poi organizzavano delle cose carine prendevano tutte le pizze e c'erano queste serate di di chiacchiera sull'arte bella tematica con momenti di recitazione in un punto molto carino una traversa del di quello che chiamano il corso a viterbo e già fa parte già del centro storico ecco dei miei giovedì pomeriggio con con una mia amica una volta siamo andate anche in tre ecco che meraviglia il tè offerto poi io ho portato anche però ecco questo dei delle selezioni di te bellissime questi momenti conviviali con persone intelligenti che bello queste tante persone quanto parlare diverso opinioni diverse com'è bello quando si può manifestare un'opinione un pensiero ascoltare quello che ha da dire l'altro che tu magari non ci avevi pensato altre informazioni e poi la meraviglia di come la preparazione di questi eventi di questi momenti ma poi la compagna del del professor mascagna una persona squisita deliziosa mi mancano quei momenti anche perché la mia vita è veramente più che spartana beh molto semplice molto solitaria sì che sono un po di qua un po di là dai vicini però veramente sono piuttosto solitaria anche perché mi serve fare le mie cose dedicarmi ai miei ai miei pensieri creativi e vabbè santa polenta e quindi il professore ha dedicato veramente molto alla dislessia essendo lui dislessico c'era un progetto in collaborazione anche con la regione lazio dovevano nascere dei laboratori insomma delle belle cose un libro che ve l'ho anche già fatto vedere tempo fa poi lo leggeremo perché della dislessia si sa poco lo sanno conoscono questa cosa soprattutto i genitori attuali dei ragazzini che manifestano dislessia purtroppo molti insegnanti sanno troppo poco ci sono degli specialisti che sono poco specializzati e spesso l'aiuto vero viene da chi l'ha vissuto a questa cosa anche mi dicevano la distrazione quando anagrammavo le parole si confondevo dei termini vabbè adesso mi rimane tutto più chiaro me ne accorgo a volte guardo ma non vedo non lo vedo non è distrazione santo cielo celito lindo adesso arriva l'oreste eccolo qua il disgraziato che lui vuole attenzioni perché vorrebbe uscire mica peraltro ha dormito lui è a lui ha dormito tutta la mattina dopo averci fatto dannare tutta la sera la notte no la sera no la notte lui la notte dalle due le ecco ha cominciato è buttare giù roba dalle due in poi è giorno di notte però è quella la questione ecco passeggio sul tavolo tra le mie cose e sa che lui si metterà qua davanti ci scommettete eccolo lo sa come fanno guardate io non lo so come fanno i gatti a rompere così bene le scatole come ci riescono loro non ci riesce nessun altro animale non so le scimmie ma i gatti lui è proprio davanti dove non doveva andare ma non perché sia l'unico posto dove poter stare ecco mi sposto di qua vi volevo parlare del blu ma ne riparleremo vi volevo parlare di ricamo ne riparleremo vi volevo parlare di biancheria ne riparleremo volevo sfogliare questo allegato e lo risfoglieremo anche perché il messa il vocalone da un'ora e otto minuti non funge è meglio lasciar perdere quindi lo risfoglierò lo chiacchiereremo e chiacchiereremo anche di ricamo per chi ha poca manualità o per chi non è ancora pratico non bisogna spaventarsi è solo una questione di esercizio come la calligrafia anche se nella calligrafia ma anche nel ricamo ma in tutti i lavori molto incide influenza influisce il nostro stato d'animo quindi perché a volte parliamo di tensione lavoriamo facciamo i nostri calcoli e poi il nostro capo cambia le sue dimensioni noi non abbiamo fatto apparentemente niente perché è cambiato il nostro stato d'animo e quindi come regolavamo prima la tensione con quel filato dopo l'abbiamo cambiato e primi 10 centimetri sono stati hanno avuto un certo andamento gli altri 40 sono completamente diversi dai primi 10 così anche nel ricamo nel ricamo la distanza dei punti la tensione del filo cambia a secondo del nostro stato d'animo quando vedete dei ricami così precisi così così uniformi ecco pensate al controllo della persona perché qual è quella persona che ha uno stato d'animo sempre uguale sempre costante in questo periodo poi vorrei vedere ricami di molte mani esperte io se stanno ricamando così il ricamo la maglia l'uncinetto ecco la nostro stato d'animo noi siamo esseri umani abbiamo viviamo di emozioni le emozioni vivono con noi nel nostro quotidiano nel nostro fare nella cucina oggi brucio domani no oggi l'impasto mi viene bene domani no oggi faccio le frittelle di riso domani no domani no domani sono le ceneri poi basta dolci per un bel po' e parleremo di orientamento verso il colore se vi va ma tanto lo faccio uguale e quindi come lo vivo io il colore ecco vi chiacchierò ovviamente e come vedo magari anche a volte usare il colore e da come viene usato il colore spesso mi capita di avere il sospetto che ci siano ad esempio determinate patologie nelle persone sapete che poi ho avuto conferme e lavoro con il colore da quando lavoro è da quando ho 14 anni che per me il colore in un in un ambito nell'altro è una forza una componente una necessità è una curiosità e mi sono accorta che al di là di come uno si aggeggia perché magari dipende molto anche parliamo del make up dell'esperienza della tecnica che uno può avere può essere istintivo combinare certi prodotti e certi colori come invece magari se uno non è non ha una preparazione magari bastano quelle due dritte e la persona cambia in modo perché impara ad adoperare i prodotti in realtà per quello che riguarda ad esempio più l'abbigliamento che l'arredamento l'abbigliamento è quello che ha a che fare con noi quindi quali sono i colori che scegliamo nei filati è sempre lo stesso parliamo sempre degli stessi colori variano i colori a secondo del loro supporto quindi del materiale che siano lane sete cotoni lini o misti o filati acrilici fantasiosi come ci vestiamo al di là delle stagioni quali sono le tonalità che prediligiamo come le mescoliamo ecco io mi sono accorta che quando alcune persone che si adesso poi ci sono ancora più sensibile rispetto a prima utilizzano determinate tonalità e anche la l'orientamento verso certe fibre ecco è anche la manifestazione di certe patologie no psichiatriche no psicologiche parlo di stato del fisico della persona quindi di organi interni diciamo quando ci sono certi disturbi e che comunque hanno a che fare anche col nostro atteggiamento nella vita spesso io questa cosa l'ho vissuta tanto con la mia amica mercedes in argentina vissuta in italia poi rientrata in argentina e che mi manca tanto è venuta a mancare quando ero appena arrivata in questa casa sono arrivata in questa casa cinque anni fa settembre di quasi cinque anni fa saranno cinque anni a settembre poco dopo mercedes è venuta a mancare e nel nostro ultimo appuntamento romano guardate io non lo so ma per mercedes un grande gusto per il colore bravissima nell'arredare nel recuperare tante cose io lo so già a distanza nel momento in cui ho pensato a un oggetto per lei avevamo un appuntamento sapevo di questo viaggio a Roma mi ha dedicato tutto un po' insomma siamo state insieme tante ore di un pomeriggio poi sapete che quando si va si ritorna sui nostri passi diciamo quando torniamo da lontano nella zona non dico di origine ma dove abbiamo vissuto dove torniamo per i nostri effetti che abbiamo in quei luoghi parenti abbiamo sempre poco tempo ci dovremmo spalmare per mille case e non è sempre facile avere abbastanza tempo per tutti io vedo se solo camilla quando torna a spezia che magari sta per pochi giorni vorrebbe stare con la cugina vorrebbe stare con l'altra cugina vorrebbe stare con l'altro cugino vorrebbe stare con nonna zio nonno e si sono tutti sparpagliati diventa complicato non si riesce a vedere tutti e mi ricordo per delle cose che così io non capivo perché usassi stessi usando certi colori per mercedes che ho fatto una cosa gradevole non è che ho fatto una cosa forzata condizione però mi portava verso la scelta di alcuni colori adesso magari tanti si sconvolgeranno non è magia è una questione di vibrazioni che si avvertono di vibrazioni nella voce nelle parole non so perché io scelsi quella gamba di colori però sarà un caso però 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 poi mercedes ha manifestato certe cose e se le sono portate via insomma e io vedo che persone che non stanno benissimo fisicamente con certe patologie a un certo punto arriva la confusione nella scelta dei colori persone che avete visto magari con certi colori con un certo stile diciamo nel metterli insieme non parlo di stile di abiti di qualità degli abiti parlo proprio di colori su superfici su stoffe su maglieria parlo di abbigliamento di come si vestono le persone a un certo punto quando ci sono certi certi problemi fisici e questa cosa mi fa così strano veramente la studierei la vorrei studiare con persone che hanno determinate competenze in questo modo è impossibile fare qualsiasi cosa praticamente per non per tutti è difficile per un certo tipo di persona incontrarsi per condividere delle esperienze cos'è la ricerca non è prendo sette cose che sono già esistenti e le replico quello non è fare ricerca quello neanche cronaca sinceramente e quindi c'è questa cosa che così guardate guardate il disgraziato è un muso musone quindi andiamo poi a parlare di colori di colori nell'ambiente di quello che ci fa stare bene mi piace questa cosa dei commenti non scusatevi quando fate un commento che richiede un po' di parole a me fa piacere e può far piacere anche agli altri chi non ha tempo, chi non vuole impiegare tempo nel leggere i commenti degli altri e magari coglierlo come un'opportunità di scambio non scusatevi quando lo fate io poi purtroppo ho questo inghippo con YouTube è che non mi passa tutte le notifiche a volte scopro messaggi di ore prima io ho risposto anche ma la cosa buffa è questa io ieri ho risposto a varie persone sotto a un commento in tutta una fascia di ore e ieri sera ho scoperto che sei ore prima mi era stato lasciato un messaggio lo trovo incolonnato in mezzo agli altri io avevo già letto dopo altri messaggi io quello non c'era e poi l'ho visto tardi tardi così come capita che tramite messaggi più recenti in vocali parecchio precedenti vado a scoprire che c'erano dei commenti che io non avevo letto e mi scuso non so come venirne fuori per avere sempre tutte le notifiche io quello dato come input come ho scelto determinate cose quindi sì voglio le notifiche di chi mi commenta poi se ci devo litigare ci litigo io va bene no ma scusate figuriamoci eppure accade quindi non abbiatevene a male non dipende da me non so come venirne fuori e questo il mio resto è che si vedete come si lava il musetto gli occhietti, le orecchie io non mangio questo gatto bene vi saluto parlatene di cosa vi fa star bene quali sono i colori che cercate quando avete bisogno di consolazione oppure ci sono i mesi che vi portano verso certi colori oltre che certi filati perché sappiamo che tra 20 giorni circa comincerà la primavera finirà l'inverno ma farà ancora freddo quindi noi avremo bisogno di filati caldi se siamo svelti cominceremo vari progetti in questo mese e avremo modo di indossarli con le nostre lanine belle perché? perché? perché l'Italia è lunga perché l'Italia è alta è snella è lunga è alta e anche al centro lungo la sua spina dorsale può fare un freddo becco nello stesso momento dove magari ha 20 km verso valle fa un becco caldo eh andate un po' sull'Etna adesso no eh ma ci andrei proprio mi fa una paura nonci ma sì a vedere le coltivazioni dei datteri stavo per dire oh come si chiama quella cosa dei pistacchi e poi e poi le carrube e poi i boschi ma io amo la Sicilia la voglio conoscere la voglio vivere la voglio passeggiare la voglio annusare la voglio guardare ascoltare e lettera testo ecco oresti smettila e quindi noi abbiamo bisogno di vestirci di coprirci di scaldarci in tutte le stagioni in tutti i mesi dipende da dove stiamo come farà cosa sarà vi ricordo luglio del 93 io avevo compiuto 30 anni eh sì 30 anni luglio del 93 per una quindicina di giorni circa al centro del mese quindi il 18 di luglio io mi ricordo a casa mia fuori da casa mia a Beverino facevano 18 gradi in quelle due settimane a parte le piogge torrenziali a parte le tempeste temporali anche quando non pioveva faceva un freddo cane perché 18 gradi a luglio fa freddo è l'unico mese caldo della mia città no vabbè ultimamente è difficile però il mese più caldo è più luglio che agosto spesso e volentieri quindi mi ricordo un'estate quelle due settimane fredde a un certo punto una sera ho acceso la stufa ma davvero ecco quindi noi abbiamo bisogno di colori che ci mantengono nei mesi che stiamo vivendo quindi nel mese di aprile nel mese di marzo nel mese di maggio nel mese di giugno anche in casa anche in casa con le telerie con i fiori con le tazze con i cucchiai magari e soprattutto nel nostro abbigliamento però osserviamoci quando ci sentiamo strani e viriamo verso certi colori che per noi sono inusuali che non è solo l'ondata della moda del momento facciamoci due domande come stiamo anche psicologicamente siamo sereni siamo spaventati siamo tristi siamo esaltati siamo gioiosi come siamo come ci rivolgiamo noi al colore e poi parleremo di di colori per la casa e colori per la persona che sono due situazioni diverse noi non siamo una parete non siamo un muro noi vibriamo di vita abbiamo una circolazione sanguigna abbiamo degli sbalzi non solo d'umore ecco i nostri colori dipendono da tante cose per me anche da quello che mangio soprattutto ma non solo per me che a secondo di come sto parte parte il molbo di Gilbert e divento bella giallina ah c'ho questo bel colorito che mi dicevano ve lo so ve l'ho già detto ah ma parti i collant no perché era estate cioè metti che ne so settembre era ancora caldo non mettevo i collant oppure ottobre ci sono state delle ottobrate calde ah ma come sei abbronzata magari ero stata manco a armare e non lo sapevo io dicevo vabbè sono colorata così è un ambrato che io poi sono pallida non ho una carnagione calda mi venivano le lentigini sul naso quello sì mi sono piaciute tanto c'è una nipote che c'è una tante dei lentigini d'estate sul nasino quelle piccoline piccoline la Elena la nipote che ha ricevuto il cuscino di Camilla avete visto su Instagram poi ve lo propongo anche di qua facciamo un post dedicato ai regali di Camilla e quindi se mi si alza la biliruvina che è una forma di ittero quella che mi prende che cosa la scatena il cibo alcuni cibi sì uno stato di salute e la scarsità di sonno quando io non dormo e di conseguenza il molbo di Gilbert è diciamo invalidante quando si manifesta fortemente perché porta quasi alla narcolessia quando è molto alta la bilirubina nel sangue se non dormo quando mi viene sonno non dico che mi viene il colpo di sonno ma quasi ma mi viene un mal di testa tale che non mi passa mai più quindi che sia a mezzogiorno che sia alle 11 che magari ero già in piedi che sia alle 6 del pomeriggio io devo chiudere gli occhi e dormire è una reazione del mio del mio fisico del mio corpo è il fegato che si arrivo e quindi il vino rosso che io adoro non lo bevo quotidianamente ma nella fase di manifestazione della cosa lontano niente cioccolato quando quando mi si manifesta vabbè poi tutti gli alimenti che per fortuna adesso conosco meglio e guardate i peli del mio gatto e dai quali sto lontana come la zucca come il pomodoro come il pollo come certi oli certi semi le olive io l'ho ghiotta di olive l'olio di oliva che io adoro l'olio exavergine ciao core proprio giusto una volta intanto e sempre ascoltando come sto come sto in quel momento cosa ho mangiato in quei giorni ho assaggiato cose che non dovevo sono particolarmente stanca e poi porta una stanchezza una spossatezza la bilirubina alta nel sangue che non vi non c'è poco da fare cioè vi rimane finché non l'avete smaltita tutta ora so come tenerla sotto controllo sono stata veramente dei giorni dove ero gialla da far paura negli occhi ma anche lì il medici non tutti conoscevano questa cosa quindi il morbo di Gilbert la bilirubina alta e boom ed ho capito e quindi ad esempio vi possono venire delle macchie rosse sul palmo della mano metà palmo della mano diventa quasi bordeaux il prurito adesso non me ne vengono a mente manco tutte devo dire la verità e quindi adesso da pochi anni da pochi anni sui farmaci c'è scritto se non sono adatti ai portatori di questa cosa di questo morbo che è una difficoltà del fegato di smaltire quello che c'ha da smaltire e la tachipirina è una di queste cose qua che non è adatta a noi io già sapevo dell'aspirina vi vinci manco quello e sì ecco perché bisogna mantenersi sani sani sanex vi auguro una buona giornata hai visto qualche chiacchierata ciao e poi torniamo torniamo ciao ciao Grazie.